La festa di San Nicola di dicembre è ancora una volta un'occasione di riflessione e di unità tra i popoli. In un momento storico come questo, qual è il suo significato? Il significato di sempre. San Nicola è simbolo di solidarietà e fraternità. Naturalmente festeggiate San Nicola in questo momento in cui questi valori stanno venendo un po' meno, è logico che la festa diventa anche un impegno di grande riflessione in merito a quelli che devono essere i nostri, non soltanto buoni propositi, ma anche di impegno per percorrere quei sentieri che ci mettono in condizioni di essere veramente operatori di pace. San Nicola e il concetto del dono sono due elementi legatissimi tra loro. Nel periodo di Natale questo concetto è fortemente sentito, ma come facciamo, come possiamo ad essere appunto portatori di dono e della generosità in tutto l'anno? Il dono della carità è un dono che va fatto nel silenzio e senza troppo ostentazione. Quindi io penso che dobbiamo riscoprire soprattutto questa dimensione del dono che vuoi, la vera dimensione del dono Nicolaiano.